Ormai è un fatto, i mostri al cinema sono sempre più grandi, in tutti i sensi. Hola amigos e benvenuti a questo nuovo video di recensione del mio canale. Ho visto Kong School Island e wow, che figata! Devo dire che quando ho visto il trailer ero un po' preoccupato, perché dicono una frase che già... una frase identica che si sentiva nel trailer di Godzilla, cioè i test nucleari non erano dei test, cercavano di uccidere qualcosa. La stessa frase io ho detto, oddio, non è che hanno fatto un film con King Kong che è una specie di copia di quello che hanno fatto con Godzilla, oddio, no, per fortuna no. Perché le differenze sono enormi. Diciamo che la trama è proprio quella classica dei film sui mostri degli anni 40. Gli uomini che vanno su un'isola, nell'isola c'è il mostro e si trovano nella cacca, insomma. Mentre in Godzilla appunto era coinvolto praticamente tutto il mondo, quasi. Gli esseri umani erano praticamente marginali, allungavano la storia e basta. Qui invece avviene tutto isolato, su un'isola, scusate il gioco di parole, ma è così. E in realtà lì gli uomini un po' di importanza ce l'hanno, di interferenza più o meno così. Diciamo che se non ci fossero stati sarebbe stato meglio, però va bene. Troviamo molte cose belle in questo film. Troviamo un John Goodman in ottima forma. E io non capisco perché sia stato così massacrato negli Griffin per due volte. Due sketch con John Goodman che viene mostrato, una cosa così che se la descrivesse Giobbe Covatta direbbe che come viene mostrato negli Griffin, John Goodman al confronto Giuliano Ferrara sembra Rita Pavone. Cioè per dire, viene mostrato enorme. Lì invece lo vedi e si è dimagrito tantissimo. È in ottima forma. Dai tempi in cui ha fatto i Flintstone, in cui ha fatto, insomma viene da Las Vegas, se non avete mai visto questo film, vedetevelo perché è ottimo. Quindi abbiamo un John Goodman fantastico, abbiamo un Samuel Jackson proprio stralunato. Cioè c'è un colonnello tosto che lui è il classico che vede Kong come un nemico da abbattere. Nessuno, tutto quello che gli dicono gli altri che è l'opposto non li sente. Cioè no, Kong non è cattivo, lo voglio ammazzare, fa un culo. Questo è il personaggio di Samuel Jackson. Ovviamente vorrei raccontarvi delle scene, però non posso, perché cavolo, le recensioni a caldo parlano di questi film che io ho appena visto al cinema, non posso fare spoiler, quindi mi dispiace. Diciamo che posso dirvi le cose che mi aspettavo, che non ho viste, e qui mi aspettavo che la storia era un po' rimasta quella classica, con magari Kong che veniva messo in catene, portato a New York, che si arrampicava sul palazzo e abbatteva gli aeroplani, gli aerei. Cioè, cavolo, questa cosa quante volte è stata mostrata, quante volte è stata scimmiottata nei Griffey, nei Simpson, in American Dead, in tante altre cose c'è sempre. Si parla di King Kong, c'è lui che si arrampica sul palazzo e abbatte gli aerei. Anche qui abbatte gli aerei, però non ci sono palazzi. Stavolta rimane sull'isola, ecco, ho già detto troppo. Posso dirvi che in realtà in un momento finisce in catene, diciamo, si può dire così. Hanno trovato un modo geniale per rappresentare comunque King Kong incatenato. Però appunto dopo posso dire come e perché, perché non posso. Diciamo che hanno fatto degli accambiamenti forti, le altre creature che si trovano sull'isola hanno fatto dei lavori spettacolari, c'è uno strano insetto stecco gigante, c'è un ragno colossale che mia sorella quando l'ha vista... Perché è arachnofobica, è rimasta terrorizzata. Poi ci sono tipo dei pterodatti o qualcosa del genere, insomma. Cioè, ci sono molti... diciamo... Allora, non vi posso raccontare le scene, però vi posso dire cosa si può provare a vedere queste scene, cosa penso che proverete anche voi come ho provato io. Diciamo, c'è una scena in cui tu ti chiedi Cacchio se Kong ci ammira. Cioè, non che ti chiedi che commenti. Cacchio se Kong ci ammira. C'è un'altra scena in cui dici Che cazzo è successo? C'è un'altra in cui dici Oh, sì, Kong c'ha un'ottima mira. C'è un'altra in cui dici Ma che cazzo di sfiga, no! C'è un'altra che dici Sì, becca! E c'è un'altra in cui dici No, aspetta, non ho capito. C'è un'altra in cui Ecco, rimani fisso a osservare, perché È stato fatto veramente bene Cosa altro posso dirvi? Beh Il combattimento finale è spettacolare Ecco, questo ve lo posso dire Lo hanno realizzato benissimo Ma in realtà Tutti i combattimenti che fa Kong Anche quelli che sembrano i più inutili Sono realizzati benissimo Diciamo che nulla da dire Sull'effetto grafico Sui movimenti della telecamera Non c'è mai un'inquadratura Che tu dici Aspetta, che è successo? A parte un paio di volte, però È normale Insomma, quando le scene avvengono veloci Ma quando spesso smorzano i suoni Quando li accelerano È tutto ben calibrato Hanno fatto un buon lavoro Dal punto di vista di fotografia Dal punto di vista della sceneggiatura Oddio, quando fanno lo spiegone Diciamo, in cui parlano di Kong Sull'isola Diciamo che quello È un po' Stona un pochino Però diciamo, per esempio All'inizio del film C'è una scena Che sembra quasi fuori Che sembra fatta soltanto Per mostrare Kong Poi però invece Si ritornerà più avanti Nella storia Ecco, diciamo che Niente lì È stato buttato a muzzo A casaccio C'è anche un bel lieto fine Diciamo No, aspetta Non vi sto facendo sport Per un personaggio Mostrano un lieto fine Di un personaggio Che si trova là Non vi preoccupate Diciamo che C'è una scena classica Di Kong Che lì non c'è Ecco, basta Non vi dico altro Se no È veramente uno spoiler Questo Per Oddio, beh In fondo Kong c'è già Da un po' Al cinema Quindi molti L'hanno già visto Però appunto Altri no Quelli che ancora Non sono andati a vederlo Io dico Andateci È bello Sì, lo so che lo dico Per tutti i film Che recensisco Però appunto È raro che io Non trovi un film bello Però io Questo film Mi è piaciuto molto Appunto Ero timoroso Ad andarci Perché dal trailer Non sembrava Poi così spettacolare Invece L'hanno realizzato bene Per essere un film Ambientato praticamente In un unico posto Cioè Tutto il film È soltanto nell'isola Non ci sono altre location Se non Un po' all'inizio Quando John Goodman Va a chiedere Portatemi all'isola Voglio dimostrare Che ci sono certe cose E a parte quello Insomma È tutto ambientato Nell'isola È molto bello Diciamo Che alcuni personaggi Ti stanno simpatici Altri Non vedi loro Che schiattino E diciamo Che ci sono un paio Che non vorresti Che morissero Diciamo Due tre Che vorresti Non morissero Però Diciamo che Per metà Rimani deluso Ecco Non vi dico altro Quindi niente Questo è tutto Ci sarebbe dovuto essere Anche mia sorella Fare dei commenti Ma non è potuta venire Ha visto il film Con me però Non è qui per fare La recensione Purtroppo Quindi Mi spiace La vedrete forse Alla prossima recensione Quindi 8 minuti Basta È anche troppo Quindi Spero che questa Recensione Orribile Vi sia piaciuta Perché appunto Non c'è altro da dire E quindi Vi saluto E ci vediamo Alla prossima recensione Ciao 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 Grazie.